Sono passati nove mesi e non hai ancora divorziato. Ti tradisce con la segretaria ogni volta che vai in ufficio. Tu non hai mai sbagliato. Pronta, mamma? Tirala più su! Faccio io! E tu sei? Noah. Abito insieme a mio zio qui accanto. Non sei di queste parti? No. C'è stato un incidente, i miei genitori. Finirò gli studi qui a Monroir. Mia madre insegna lì. È troppo carina per fare la prof. Lei è bellissima. Mi scusi, io non dovevo dirlo. Tranquillo. Nessuno mi faceva un complimento da tempo. Allora ho fatto bene a dirlo. Quando perdi qualcuno che ami, ti sembra che la tua vita non abbia più un senso. Devo andare. Ti prego, resta qui. Niente pregiudizi. Niente regole. Solo noi. Ascolta, Noah. È stato un attimo di debolezza. Sono io l'adulta. Non so cosa mi sia successo. Finiamola qui. Noah, ti fermi da noi a cena. Signora Peterson, gli ha detto che è successo nel weekend. Che cosa? C'è stato un brutto temporale. Da voi non è arrivato? No, non è caduta una goccia. Beh, qui si è bagnato tutto. Presidente Warren. Ho approvato la sua richiesta. Noah Sanborn starà nella sua classe. Kevin, hai mandato un'email dal mio account? Forse è vittima di un hacker. Meglio cambiare la password. Ultimamente tuo padre sta molto con voi. Sì, è così. Però vi aveva abbandonati, giusto? Tesoro, non devi più vedere Noah, ok? Ci vediamo a scuola. Ragazzi. Oh mio Dio. Che succede? Perderò il mio lavoro. Mio figlio. La mia vita. Ma che diavolo hai intenzione di fare? Io non ti lascerò mai andare. No! Sta lontano da me. Sta lontano da mio figlio. Non posso farlo, Claire. Abito alla porta accanto. Puoi portarti via dei biscotti? Adoro i biscotti di tua madre.